All'interno del palazzo è il museo dell'arte. Entriamo dentro, dentro è un cortile molto particolare. Ed eccoci qua, siamo all'interno del Museo d'Arte Moderna, qui a San Pieroburgo. È un nuovo museo all'interno di una residenza molto antica, di un palazzo molto antico. E siamo con il nostro amico pittore Vladimir Zagorov. Buonasera Vladimir. Hello. Grazie per l'ospedale, grazie per averci invitati. È interessante, cosa vedremo oggi? Oggi andiamo a vedere questa esposizione che si chiamerà l'esposizione del... in italiano dimenticato per io... l'esposizione di quello che sono lunghi fiumi, lungomare e tutto quello che c'è attorno. Bene, allora saliamo sopra. Allora, qui iniziamo l'esposizione. Innanzitutto c'è, diciamo, una foto del nostro amico Vladimir con una sua biografia. E qui c'è una serie di quadri. Ricordiamoci che siamo all'interno del Museo d'Arte Moderna. qui iniziamo l'esposizione del Museo d'Arte Moderna. Valodi, sarebbe così gentile da descriverci un po' questi quadri. e ora non abbiamo mai raccontato la cartina. Mi raccontato il Saddak. Ok, questo praticamente rappresenta un po' dei suoi viaggi che ha fatto attorno, appunto, le zone, diciamo, di mare, balneare, sul mar Mediterraneo, lo aggiungo io. E queste rappresentano un po' quelli che sono i giardini che lui ha visto in giro durante i suoi viaggi, che lo hanno maggiormente calpito e ha voluto raffigurarli con queste opere. Questi due quadri, in particolare, rappresentano appunto il lungomare. La parte in basso è il mare, con quello che potrebbero essere i pesci o quello che c'è, diciamo, all'interno del mare. E poi lì, diciamo, proprio il punto in cui il mare incontra la spiaggia, quindi proprio sul lungomare. E quello che si trova, insomma, spesso che il mare porta quindi con delle conchiglie, quella potrebbe essere una medusa, per esempio, e la spiaggia. Quindi molto interessante, soprattutto, sentire il racconto da parte dell'autore. Sì, è proprio questo. Valodi ci dice che questa sala è dedicata, invece, proprio ai quadri che rappresentano il lungomare, quindi il mare quando entra a contatto con la spiaggia. E quindi, diciamo, racconta un po' queste esperienze durante i suoi viaggi. Quest'opera, invece, che vediamo gialla, rappresenta un po' delle conchiglie che sono sulla spiaggia. Quindi immaginate, lì c'è il mare, la parte sopra di questi quadri. La parte più bassa è la spiaggia, appunto quello che lascia il mare, quindi con le varie conchiglie, coralli a volte. E quindi queste conchiglie rappresentano proprio, queste figure qui rappresentano proprio le conchiglie che stanno sulla spiaggia, sulla riva del mare. ... 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